è arrivato il momento target price per bitcoin mamma che ansia però sta musica bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ci stava una bella presentazione alle grotta perché oggi andiamo a fare il target price andiamo ad analizzare il possibile target price per quanto riguarda bitcoin nei prossimi mesi abbiamo già fatto questo video lo scorso anno abbiamo già fatto questa analisi e tutto si è verificato in maniera abbastanza accettabile più o meno quello che sta succedendo oggi e anche negli ultimi settimane sta ricalcando quelle che sono le aspettative che abbiamo cioè di una gamba rialzista di bitcoin ma dove sta andando il re delle cripto? dove possiamo arrivare? quali sono i veri target? 100.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000 che ha fra di più? ma ovviamente andiamo ad analizzare andiamolo ad analizzare in questo caso solo ed esclusivamente guardando grafici numeri e previsioni attendibili non idee campate in aria e tutte quelle che sono le idee generalizzate faremo un po' riferimento alle scorse agli scorsi cicli dell'alving di bitcoin per andare a capire come si è mosso e come si è ridotta la percentuale di rendimento di bitcoin negli scorsi cicli dell'alving per capire dove siamo diretti che cosa potremmo raggiungere come target price un livello più accettabile ed un livello più esplosivo quindi più estremo di target price va bene ho il grafico già davanti al mio schermo e lo stesso grafico che vi avevo fatto vedere un po' di tempo fa qualcuno forse se lo ricorda è il grafico di lungo periodo su bitcoin anzi facciamo una cosa mettiamolo anche in forma settimanale così è più chiaro andiamo ad analizzare tutte quelle che sono queste fasi quindi dal 2012 in poi e andiamo a cercare di ottenere un numero numero di previsione di target price di bitcoin prima di andare avanti però ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi i pollicioni per questi video perché mi date una gran mano pollici su pollici su pollici su mi date una gran mano con l'algoritmo di youtube va bene allora sono euforico chiaramente ragazzi per ovvi motivi visto che stiamo facendo ATH su ATH ogni giorno e soprattutto anche le cripto sono in un'ottima fase di esplosione di prezzi non vi nascondo che ho fatto una super operazione che vi mostrerò nei prossimi giorni l'abbiamo fatta con tutta la nostra academy con una cripto che è esplosa proprio esplosa in questi in queste ultime settimane ve la mostro poi in qualche video recap allora andiamo a noi per quanto riguarda questa situazione intanto è caduto il mio Batman qui ok lo rimettiamo in ordine allora per quanto riguarda questa situazione andiamo ad analizzare queste linee che vedete allora la linea gialla per esempio che ho messo già qui vi ho già costruito intanto il grafico altrimenti ci mettiamo tre ore ad andare a fare tutte queste lineette quindi quello che vedete qui sono le date dell'albing precedenti dei cicli di Bitcoin quindi andiamo ad analizzare la distanza sia in termini di tempi sia in termini di massimo storico quindi di ATH vero che ha raggiunto Bitcoin dopo l'evento albing allora nel 2012 quest'albing qui ha prodotto il più grande balzo da quando abbiamo questi grafici questi sono Bitstamp ragazzi poi ovviamente i precedenti erano ancora più esplosivi quelli che riguardano ovviamente il 2009 e il 2010 però poi non abbiamo tanti dati relativi alla prima fase di Bitcoin anche perché anche se ci fossero sono molto difficili da andare ad analizzare in quanto era appena nato ed era solo nella chain che transitavano i dati e quindi non abbiamo proprio grafici in maniera abbastanza accettabili insomma ecco diciamo così che è meglio allora questa è la struttura dell'adding che cosa è successo nel 2012 da novembre del 2012 in poi Bitcoin fa un anno intero per raggiungere poi questa sua fase di massimo e poi dall'in poi inizia una fase di downtrend fino poi alla successiva fase dell'adding che sarà nel 2016 quanta è stata la fase esplosiva la vediamo qui quindi dal momento halving fino al suo massimo a TH più o meno che è stato raggiunto da da Bitcoin abbiamo ottenuto una percentuale del 9400% non è importantissimo andare a mettere i prezzi precisi si lo so ragazzi allora voi dite ma la differenza di prezzo è di addirittura 40-50 100 punti percentuali quindi devi mettere i prezzi precisi perché non li metto precisi perché stiamo parlando di statistiche non stiamo parlando di certezze scientifiche non è una formula matematica dove 2 più 2 fa 4 ragazzi quando si analizzano dati di natura statistica dovete lasciare spazio agli errori è irrilevante la questione perché siamo in un mondo aleatorio quindi non serve andare nel dettaglio perché si causa si fa una cosiddetta overfitting dei dati si va a cercare però non è luogo ma poi il futuro non sarà mai quello lì quindi in linea di massima aggiungete proprio l'errore aggiungere l'errore in queste formulazioni non è sbagliato anzi addirittura è corretto quindi ci tengo a dirla questa cosa perché sennò poi magari qualcuno non capisce perché non sono puntioso sul fissare proprio questi livelli quando si fanno analisi di natura discrezionale in questo modo quindi qualitativa non quantitativa proprio al dettaglio non è utile andare a mettere i dati dei prezzi massimi e prezzi minimi ma ad occhio ragazzi fatelo ad occhio se ne sembra strano uno dice così dice ma perché da qui a qui cambia addirittura un impulso percentuale notevole allora più o meno 9000 e passa per cento nella prima fase di halving raggiunto dopo l'halving all'incirca in 364 giorni poi dall'inpo è iniziato una fase di mercato orso che è terminata col minimo della settimana del 12 gennaio 2015 dalla quale è poi iniziata una nuova fase del ciclo come vedete l'halving è sempre dopo l'inizio del ciclo riazista anche in questo momento anche in questa attuale fase dell'halving è avvenuta la stessa identica cosa quindi questo sistema che è effettivamente andato a riproporre anche per l'attuale fase andiamo a vedere la successiva per capire come è cambiata poi la struttura dell'evoluzione in termini percentuali perché perché la percentuale essendo una indicazione che riguarda in maniera molto da vicino i prezzi in assoluto ovviamente si modifica man mano che passa il tempo quindi se una cosa era partire da 12 dollari che era qui e arrivare poi ai 1000 dollari una cosa era partire come siamo arrivati qui da 650 dollari per arrivare alla bolla del 2017 fino al 2017 a i 20.000 dollari 19.000 dollari perché cambia in termini assoluti cambia anche la questione legata alla market cap del strumento finanziario in questo caso bitcoin in questo caso stiamo partendo da una market cap già elevatissima e l'andremo a vedere tra un attimo perciò quello che riguarda l'estensione della percentuale di rendimento possibile non può essere assolutamente paragonata alla precedente quindi non è possiamo dire da qui aggiungiamo il 9000% e facciamo il 9000% non è così non si può fare un calcolo del genere è quindi più giusto andare a comprendere quello che è il cosiddetto tasso di riduzione dell'accelerazione l'ho chiamato così che è pari al 70% cioè in pratica questo livello di 9000 e qualcosa per cento è stato ridotto del 70% nella successiva fase dell'albing anche questo stesso tasso secondo me dobbiamo andarlo a ridurre ulteriormente per l'attuale fase proprio perché c'è la questione legata al fatto che in questo momento bitcoin capitalizza tantissimo e una variazione percentuale del 10% di bitcoin agli attuali livelli di capitalizzazione corrisponde alla 500-600% di anni anni fa ragazzi quindi bisogna capire questa questione legata alla percentuale quindi va bene analizzare i dati percentuali però poi dobbiamo anche renderci conto dove siamo in questo momento che cosa è giusto considerare come accettabile o meno quindi allora 2800% nella precedente fase dell'albing che ci sono delle peculiarità che dobbiamo andare a guardare in questa fase perché l'estensione dal ciclo dell'albing in termini temporali è cambiata questo dato qui e questo secondo me è assolutamente giusto e io credo che anche questo livello questo dato sia assolutamente da riportarcelo nell'attuale situazione se non addirittura allungarlo ulteriormente perché avviene una cosa del genere anche qui dobbiamo un pochettino razionalizzare questi numeri il tempo intercorso tra l'albing e il suo massimo nella bolla del 2017 è stato quasi il doppio del precedente proprio perché l'atteggiamento esplosivo di bitcoin si è ridotto quindi invece di arrivare ai target price in tempi velocissimi e target price molto elevati nel mercato ci ha messo più tempo proprio per i concetti che sono legati alla natura dei mercati finanziari cioè l'adozione in questo caso di questa tecnologia perché quello non era un rialzo dovuto così a un pump standard ma è un rialzo dovuto all'adozione della tecnologia in quel caso ci sono stati anche i futures i primi futures di bitcoin eccetera quindi man mano che una tecnologia uno strumento finanziario viene adottato viene utilizzato il tempo che ci mette per raggiungere magari un'ath è maggiore questa cosa più passa il tempo più tecnicamente è così quindi ci metterà più tempo ad arrivare allo stesso target price prima ci metteva un anno come abbiamo visto poi successivamente ci ha messo 525 giorni per arrivare a fare il suo ATH nel ciclo dell'alving quello che è andato dal 2016 al top che poi è venuto nel 2017 poi abbiamo avuto questa situazione qui di nuovo vedete la struttura di diminuzione quindi di mercato orso che è intercorsa dopo la TH del 2017 dicembre 2017 fino al famoso dicembre 2018 un anno di ribasso poi la ripresa un po' come era avvenuta in questa fase un anno di ribasso circa poi la ripresa qui è venuta più lineare perché qui abbiamo avuto la cosiddetta struttura della lingua ciclica questo dovuto alla problematica della pandemia questa candela che vedete ragazzi è la pandemia quindi questa è un'anomalia nei dati che precedentemente non c'era quindi non è avvenuto questo dato ma poi i prezzi dopo qualche settimana un mese e mezzo si sono rimessi dove dovevano stare in pratica ok quindi abbiamo avuto tutta questa fase che ha portato al nuovo halving e vedete anche la struttura un rialzo forse un po' eccessivo quello del giugno 2019 poi il ripristino dei prezzi a un prezzo accettabile halving del 2020 da qui in poi andiamo a capire vi faccio vedere anche un'altra cosa col precedente halving tra il minimo e il nuovo halving sono intercorsi 539 giorni nell'ultimo 518 giorni anche qui dal minimo effettivo al halving più o meno abbiamo la stessa identica questione legata al tempo in questo caso è anche giusto questa cosa è un atteggiamento assolutamente accettabile questa è invece l'attuale fase di bitcoin quindi dove siamo in termini tecnici allora moltissimi hanno pubblicato intanto il dato legato alla famoso timing di raggiungimento dell'ath e hanno indicato più e più volte dicendo che ci siamo quasi perché siamo a 525 giorni in questo momento siamo 525 giorni dovrebbero essere più o meno qualche giorno fa quindi il 18 la settimana al 18 ottobre quindi siamo in ath perché abbiamo raggiunto lo stesso timing di quello che era avvenuto nella bolla precedente dei mercati ma in base a quello che vi ho appena detto io non credo che i tempi in questo caso indicati quindi 525 giorni siano giusti per l'attuale fase dell'halving secondo me sono pochi proprio per via del fatto che in questo momento preciso c'è una accettazione della tecnologia crypto in moltissimi ambiti che va considerata ragazzi e questa non avviene all'istante non sono solo oscillazioni dovute alle ai pump and dump sono delle questioni dovute al fatto che moltissime aziende si stanno avvicinando a questo settore ci sono gli etf in fase di approvazione c'è stato il bene placido della federal reserve per quanto riguarda questa tecnologia e tante altre cose quindi probabilmente questo timing come l'abbiamo visto allungarsi tra un ciclo dell'halving e il successivo quello del 2017 si allungherà anche in questo ciclo dell'halving ecco la differenza nella guardare i dati ma poi saperli valutare perché c'è una differenza enorme nel capire la logica che hanno questi questi dati quindi 525 dovrebbe essere arrivato ma a mio avviso siamo più nell'ottica di andare verso gennaio febbraio verso questa zona qui vi ho già inserito cioè 650 giorni ho allungato di una percentuale che ritengo soggettivamente accettabile ok diciamo così questa è un po' un'opinione poi vediamo ragazzi ok però il concetto che c'è dietro secondo me è fondamentale quindi questa è la struttura quindi da un punto di vista temporale secondo me non siamo ancora nel rispetto di questa lunghezza che andava appunto modificata e quindi abbiamo spazio per fare nuovi ATH secondo me addirittura fino a febbraio marzo del 2022 questo in termini di timing temporale adesso andiamo invece a calcolarci la questione legata all'entità del target price dove può arrivare bitcoin utilizzando proprio questa struttura quindi 9000 passa per cento 2800 per cento a quanto siamo adesso con questi ATH in questo momento quelli di oggi che sta facendo proprio in questo istante un nuovo ATH andiamo a calcolare dove siamo dal giorno dell'albing più o meno a che livello siamo arrivati siamo al 700 per cento dal maggio 2020 di oscillazione di prezzo di bitcoin allora ragazzi 700 per cento è accettabile in base al 2008 e passa per cento del precedente ciclo dell'albing ancora una volta qui dobbiamo rifare riferimento a quello che vi ho detto prima non mi ripeto ragazzi perché ritornate indietro ascoltate le mie parole precedenti altrimenti il video è veramente lunghissimo però 700 per cento non è pari al 2 e 8 però non è neanche così tanto lontano se consideriamo il fatto che come vi ho detto bisogna ragionare anche in termini di valore creato da un rialzo di questa portata che è enorme rispetto a quello precedente perché non è il valore di base che partiva dai 1000 dollari ma partiva dai 8000 10.000 quindi è molto più alto va bene quindi 700 per cento come andiamo a ragionare per indicare i due livelli andiamo a prendere una proporzione del precedente rialzo analizziamo il tasso di riduzione standard che è stato il 70 per cento e tiriamo giù alcune conclusioni indicando un livello target minimo di estensione se vanno bene alcune cose che ora vi dico ragazzi già un po' però alcuni di voi probabilmente si stanno iniziando diciamo stanno iniziando a ragionare sulla questione legata al fatto che probabilmente non ci saranno target price improponibili come i 500.000 cioè capite bene che la questione può andare verso quella direzione solo ed esclusivamente se avvengono degli shock da un punto di vista di adozione dell'intero sistema crypto quindi sono numeri buttati a caso a meno che non avvengano appunto quegli shock quindi quali sono i numeri corretti ok vi ho fatto direttamente i calcoli così facciamo prima ragazzi allora se andiamo a calcolare lo stesso tasso di riduzione di decelerazione diciamo così dell'app che abbiamo avuto nei cicli precedenti cioè circa il 70% rispetto a questo livello 2865% otteniamo che un target price accettabile per bitcoin è di circa il 900% dal momento dell'albing e quindi arriviamo ad un primo tp di 77.000 dollari qualcuno di voi sorride perché il precedente che vi avevo indicato era 67 e non ci sarebbe arrivato entro agosto ragazzi infatti non c'è arrivato entro agosto c'è stato lì e ancora adesso stenta moltissimo su questo livello allora 77 900% dal ciclo dell'albing è un livello accettabile minimo che secondo me bitcoin potrà raggiungere con grande tranquillità anzi estenderei sono sincero questo primo livello di target intorno agli 82.000 dollari cioè un pochino di più perché mi sembra un po' vista l'attuale situazione anche dovuta al fatto che non è un rialzo questo delle cripto soltanto speculativo ma anche altro accettabile quindi mi sembra accettabile insomma estendere un pochettino questo movimento quindi io direi tra 77 e 82.000 dollari è il primo target price cosa succede se invece noi andiamo a ragionare pensando che il mercato attuale ha anche dimostrato una certa forza dei sistemi delle cripto l'adoption sta arrivando siamo in early majority adoption quindi l'adozione da parte istituzionale delle criptovalute che cosa potrebbe capitare può capitare che questi livelli di target price siano troppo bassi perché si basano solo ovviamente sulla storicità precedente è vero l'abbiamo ridotto ma abbiamo ragionato sugli storici precedenti quando è vero che i mercati di cripto erano già operativi accettabilmente con gli exchange ma non erano certamente tecnologicamente come ora che invece sono veramente molto imponenti soprattutto con l'avvento della DeFi Eterno tutto quello che sta succedendo anche nelle banche cripto e quant'altro quindi ipotizziamo una secondo step un secondo step dove questo livello di estensione lo andiamo ad aumentare proprio in virtù del fatto che siamo più ottimisti sull'attuale situazione quindi ragionando e dicendo non prendiamo solo la storicità ragioniamo anche sull'attuale situazione diciamo sta andando tutto molto bene quindi aumentiamo questa questo livello di un tot per cento va bene ragazzi allora ecco qui il secondo target sono andato sono andato ad aumentare il precedente target price di circa il 30% proprio per dare più slancio ai mercati e dire ok se aumentiamo di questo livello per i motivi che vi ho detto dove arriviamo ragazzi questa è l'area di arrivo come secondo target cioè intorno ai 115 mila dollari 115 mila dollari se le cose vanno non bene stra bene rispetto al passato mentre invece abbiamo un livello di target price che è un'area che può andare dai 78 più o meno agli 80 e qualcosa 83 in questa zona qui 83 87 direi anche ragazzi anche perché poi la differenza su 80 mila di 2 mila dollari sarebbero pochissimi punti percentuali quindi come area di target direi questa zona qui come livello accettabile secondo me raggiungibile abbastanza facilmente da bitcoin mentre un secondo livello un po' più difficoltoso e sicuramente un'estensione più importante va dai 100 mila ai 120 mila dollari 100 mila 115 mila dollari questo è quello che dicono i numeri anche estremamente ottimistici su tutto quello che è stato il passato ma sarebbe anche un quasi x2 quindi quasi un raddoppio di attuali livelli se andassimo ai super livelli quindi di estensione quindi quelli up oltre questi livelli è possibile andarci solo e solo se avviene uno shock da un punto di vista di estensione di adozione scusate nel mondo reale quindi magari dei servizi come paypal che iniziano proprio a dare crypto a tutti tutti iniziano ad adottarli si inizia a utilizzare nei negozi non so qualcosa del genere anche nel business to business quindi questa è l'idea generale andare oltre questi prezzi semplicemente perché abbiamo letto qualche analisi che dica 500 mila un milione due milioni tre milioni non me la tento di dirvelo questi secondo me sono i target price attualmente per questa fase del ciclo dell'albing poi ci sarebbe da ragionare su un'altra cosa è possibile che poi un'eventuale fase di riposo dei prezzi possa essere molto lunga oppure i mercati potrebbero semplicemente decidere di stare in trading range e non fare proprio magari una fase di mercato orso come le precedenti che sono state pesanti con meno 80% eccetera e possono decidere magari di ridurre di meno questa estensione e attendere un'eventuale adoption fra qualche annetto cosa ne pensate questa è una bella idea la sto abbracciando poi lo analizzeremo nel corso dei prossimi mesi qual è la vostra idea di target price siete delusi o no da questi target price vediamo che cosa succede nei prossimi mesi va bene ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate soprattutto se siete delusi o meno da questa a livello ciao ragazzi che sudata ciao ciao